Non c'è dubbio che tra i più colpiti da questo isolamento forzato da emergenza e coronavirus siano stati i giovani, segregati in casa, lontano dagli amici, senza possibilità di incontrare i compagni e tornare a scuola, costretti ad una quotidianità chiusa in casa. Il virus ha demolito ogni certezza, costretto giovani e meno giovani a misurarsi con un nuovo orizzonte. Ciascuno ha reagito a modo suo. Tra questi, anche chi ha saputo mettere in azione l'originalità del proprio estro e riprodurre questi momenti di angoscia attraverso le immagini, facendoci immergere nella normalità che vorremmo riconquistare e che impareremo ad apprezzare certamente di più, concentrandoci sui valori di tutto ciò che ci circonda, senza dare più nulla per scontato, appena sarà possibile. Il risultato è questo video realizzato da due studenti vibonesi, Giovanni Galati, ex allievo del liceo artistico Colao di Vibo Valencia ed oggi studente universitario, e Kevin Di Bruni, studente dell'ultimo anno dell'indirizzo multimediale dello stesso istituto. Torneremo presto a sentire il vento scorrere su di noi, apprezzando ciò che la natura ha da offrirci. Saremo più consapevoli di ciò che ci circonda e daremo più valore ad ogni cosa. Ma per il momento dobbiamo combattere, resistere, dando forza a chi rischia in prima fila la propria vita per salvarne altre. Torneremo. E riscopriremo il mondo sotto una nuova luce.